Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Secondo le ultimissime notizie l'aggiornamento della nota del DEF dovrebbe essere corretto per quanto riguarda gli aumenti della pensione 2024. Secondo le ultime previsioni, anche come comunicato dalle più importanti testate giornalistiche tra cui solo le 24 ore, verrà confermata quindi la percentuale del 5,4% come aumento nelle pensioni 2024. In questo video vediamo quindi di quanto aumentano le pensioni tra un mese e mezzo circa per via della rivalutazione ormai definitiva a livello di percentuale. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. L'aumento delle pensioni nel 2024, quindi da gennaio, ormai è praticamente certo che dovrebbe attestarsi a un più 5,4% e verrà quindi confermato a breve con un decreto. Nel video facciamo quindi un breve riepilogo di quanto aumentano le pensioni secondo questo ultimissimo aumento a livello di percentuale. L'aumento sarà sicuramente più sostanzioso rispetto a quello del 2023, ma comunque non rivoluzionario. La conferma dell'Istat dovrebbe quindi arrivare a giorni ed essere confermato nella nota del DEF. 5,4% pieno lo riceveranno solo le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 2271 euro lordi. Oltre a questa soglia ci sarà una rivalutazione ridotta che però deve ancora essere confermata in legge di bilancio con tutte le varie modifiche. Adesso vediamo alcuni esempi quindi di quanto saliranno le pensioni con questo più 5,4%. Le minime dovrebbero salire a 598,61 euro. Applicando la rivalutazione straordinaria dovrebbero passare a 615 euro circa. L'assegno sociale invece passerà da 507 a 534,40 euro. Le pensioni di 1.000 euro lordi salgono a 1.054 euro lordi, quelle da 1.500 euro saliranno a 1.581 euro, quelle da 2.000 euro saliranno a 2.108 euro, quelle da 2.500 euro saliranno a 2.621,50 euro, mentre una pensione da 2.800 euro dovrebbe salire a 2.936 euro. Infine, ultimo esempio, una pensione da 3.000 euro salirà a 3.085,36 euro. Queste le cifre che dovrebbero essere per l'appunto confermate a breve con la nota del DEF.